Il ballerino Cristiano nelle ultime settimane ha legato molto con Mattia anche il suo ballerino, il quale ha però dovuto troncare prontamente il suo percorso per via di un infortunio. Da allora Cristiano non è più lo stesso, ha più volte confessato di sentirsi estraneo a questo mondo senza il suo fedele amico ed inoltre ha ammesso di non riuscire a reggere la pressione con la sua assenza, per questo motivo infatti ha deciso di abbandonare definitivamente il talent. Davanti a questa assurda scelta gli autori gli hanno permesso di chiamare i genitori, la mamma in particolar modo, la quale ha tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea. Io so quanto sei forte tu, ascolta amore, ci sta il momento dello sconforto, ci sta, penso che a tutti è capitato, però se pensi a quanto è bello stare lì, a quanto hai sognato di stare lì, questo ti cambia. Se fossi in te lotterei fino alla fine, io continuerai la mia lotta, il mio sogno fino alla fine come un guerriero, tu sei un guerriero, tu pensi che tutto a tuo sfavore invece tutto a tuo favore tu non te ne rendi conto. Queste sono le parole della madre, pensate e dette per trasmettergli la forza di andare avanti e continuare questo suo magnifico percorso. Ad ora però sono innumerevoli pensieri che gli frullano per la testa. Cosa accadrà nelle prossime ore?